Il team che segue il core della piattaforma, Backend e App Mobile, composto da tre soci fondatori, Luca, amministratore legato e fondatore, Riccardo e Roberto, e da un dipendente, Alan. Oltre a due collaboratori esterni, tutti full time. Abbiamo inoltre sette partner in quelle che sono le aree strategiche di una soluzione come la nostra, quindi fornitore hardware e firmware, cloud, business intelligence, UX, UI, sicurezza e infrastruttura tecnologica, privacy, e un designer che segue tutte le evolutive del prodotto, per un totale di 25 persone quotidianamente impegnate. Il nostro modello di business è un B2B2C, quindi proponiamo la nostra soluzione a player business che a loro volta possano proporla ad un loro portfoglio clienti già consolidato. Per le caratteristiche della nostra soluzione oggi parliamo principalmente con assicurazioni, banche, multiutility telco, aziende produttrici di beni fisici per la casa, l'ufficio, quindi elettrodomestici, aziende domotica tradizionale, tutto il mondo dell'ospitality, dal bed and breakfast all'hotel, all'host Airbnb alla spa. Ad ottobre 2015 abbiamo ricevuto un primo seed da quasi 700.000 euro da due gruppi industriali italiani, una è una telco, una è una realtà che fa business intelligence. In questo momento siamo alla ricerca di un ulteriore round di investimento, da circa un milione di euro per il 20% di equiti, ed abbiamo già una due diligence in corso. Sul territorio italiano, con il nostro stesso modello di business, abbiamo due competitors. Rispetto al primo siamo molto focalizzati sulla visualizzazione e la presentazione dei dati di business intelligence generati dall'utilizzo della soluzione ed utili al player business. Rispetto al secondo player, pur avendo ottenuto un oggetto da design ricercato, stiamo su un pricing sicuramente molto più aggressivo. Nel 2018 contiamo di raggiungere una quota di mercato in Italia dell'1.4% delle soluzioni Smart Home vendute. Nel 2018 integreremo nuovi prodotti, con valenza puramente commerciale e strategica, nuove soluzioni di interazione utente Jardis, come ad esempio Amazon Alexa ha un'interazione con la televisione. API pubbliche per rendere disponibile a terze parti lo sviluppo di servizi a valore aggiunto. Risultati ottenuti. Dopo due anni dalla fondazione abbiamo già effettuato un importante ed esteso trial centro-nord Italia. Questo ci ha permesso di attivare il primo cliente business che ci ha fatto chiudere il 2017 con un fatturato di quasi mezzo milione di euro. Un importante riconoscimento è arrivato qualche giorno fa quando sono stati selezionati tra pochissime realtà italiane per partecipare con la prima delegazione ufficiale italiana al CES di Las Vegas. La più importante manifestazione mondiale di elettronica di consumo.